ciao a tutti e bentornati ancora una volta su indie gameplay ita oggi siamo nuovamente su momba zoo e vi avevo fatto il tutorial precedente su come cominciare l'avventura su come guadagnare i primi soldi ora siamo lo chiamerei in mid game che cosa ho fatto in sintesi dal negozio che è quello che vedete dove c'è scritto mm tante m di fila da lì ho comprato il l'osmosis system in sintesi va a perdere meno meno sciroppo in pratica elimina l'acqua buttando la via da lì e l'efficienza è raddoppiata quindi ora produciamo due litri ogni due minuti anziché un litro ogni due minuti quindi praticamente il doppio sto siamo giovedì stiamo producendo sciroppo d'acero in sintesi ho connesso ho creato tutta questa questo sistema di piante qui sistema di piante qua davanti concentrare è sempre meglio che collegare vedete come ho fatto la rilontananza in modo che vi possiate concentrare in zone di diciamo estrazione di sciroppo dalle linfa dalle dagli aceri e l'idea sarebbe quella sì di di espandere la zona qui al momento sono connesse più di 100 piante sono 108 che è piuttosto eccellente dice ma le cose da sapere sono queste vedete qua dice to cold outside quindi significa che lui dalle nove alle quattro di pomeriggio estrae dopodiché troppo freddo perché siamo in primavera in canada quindi tenete conto che se voi lasciate il generatore acceso dalle nove alle quattro lui accumula lo sciroppo in sé quando viene preso e filtrato e appunto creato può essere fatto in qualsiasi altra parte del giorno quindi potreste farlo nella seconda parte del giorno e nella prima parte fargli accumulare sciroppo tra l'altro potete sempre da quella location potete acquistare il secondo la seconda tank da 9.600 litri quindi ne avete quasi 20.000 litri e potrete produrre ma in sintesi che cosa sto facendo si sta avvicinando il venerdì che è l'ultimo giorno utile io ho già consegnato 12 barili questa settimana con questo nuovo strumento ne produco il doppio quindi ne produco tanti con questi dovrei arrivare a 15 perché che cosa succede il venerdì l'ultimo giorno il sabato è un giorno neutro la domenica veniamo pagati con un bonus l'ultimo bonus ho preso 11.000 il bonus prima 9.000 poi 7.000 in pratica ci pagano ci strapagano durante la domenica l'obiettivo mi manca la voce l'obiettivo è quello di connettermi alla rete elettrica e adesso vi spiego anche come funziona ora l'ultima cosa che faccio prima di andarmene e la mettere la legna la legna sarà un problema ancora per poco penso una o massimo due settimane qua davanti io pianto dei pini e soprattutto delle betulle le betulle sono migliori perché ci danno più pezzi ogni volta che le tagliamo io alimento questo e me ne vado a dormire così in pratica lui lavorerà ancora per qualche ora in modo che mi continui a produrre del liquido domani mattina vado prelevo e vado a consegnare sarà un problema per cosa per poco perché la legna allora in sintesi se andate a visitare le pale eoliche che sono di là poi le vedremo la mattina troverete un numero che è 555 4743 chiamandolo ci dicono vi mandi ok vuoi connetterti alla rete ufficiale di energia elettrica bene ti manderemo una lettera nei prossimi giorni quindi ci vogliono due giorni lavorativi quindi ci sarà oggi che magari me lo contano venerdì e quasi sicuramente lunedì o martedì riceverò la lettera con la lettera che riceverete in città pagherete imbucandola 28 mila dollari 28 mila dollari nel giro di 6 7 giorni lavorativi quindi una settimanella ancora qua dietro monteranno il contatore elettrico quindi sarete totalmente indipendenti quindi non dovrò riempire ogni volta con la tanica il mio generatore ma non finisce qui perché una volta che avrò la linea elettrica potrò comprare il raffinatore il riscaldatore di liquido completamente elettrico quindi andrà 24 ore su 24 ed è una comodità così non dovrò neanche più coltivare e piantare pini e betulle questa è una cosa utilissima per ottimizzare la produzione perché ottimizzare la produzione perché è l'unico modo il modo più che altro più efficiente di fare soldi infatti l'obiettivo ultimo adesso io ho dormito è l'una e mezza sono le due quasi vado spengo il generatore tanto avrà si sarà spento si sarà spento il fuoco nella nel mio raffinatore nel mio riscaldatore di liquido e di notte ovviamente troppo freddo e non estrae linfa dai dagli aceri fate i soldi maggiormente con il lo sciroppo d'acero potete anche piantare questa e raffinarla e vendere i pacchi li vendono il pacco singolo 65 dollari vendendola a determinati personaggi o 500 il blocco unico in sintesi un'altra cosa prima di andare in città le patate le patate sono utilissime perché voi prendete le piantate le comprate lì all'orto le raccogliete ne raccogliete un paio in questo caso ne ho quattro semi da mettere e non ho abbastanza buchi quindi intanto questo continuando mi mancano solo due parti per completare anche il buggy in pratica adesso ne ho fin troppe di patate quindi non le pianto le le butto via praticamente voi raccogliendo due piante di patate ottenete il cento per cento in un cesto secchiello in pratica di raccolta cosa fate con questo questo è utilissimo perché il putine che mangiate le patatine fritte formaggio appoggiandolo qui voi potete andare a tagliarle e praticamente con la riempita il 50 per cento se non mi ricordo male perché ne vuole 20 quindi poi uscite ne prendete altre tanto io quale o tutte cresciute o la patata qua con quattro semi ne pianto uno solo ne ho riempito sulla metà quindi anche l'altra in questo caso cinque semi di patate cioè esponenzialmente potete fare un una una piantagione immensa e praticamente una volta che avete riempito due volte al cento per cento il il questo praticamente tagliate anche queste e con due sacchi quindi 20 pressioni sul french fry cutter all'interno dovete metterci due confezioni di formaggio quello che si compra in in città che non ho qui ma ho di là mettendolo all'interno premete il tasto qui e lui inizia e vi crea cinque putine che potete mangiare che è una confezione diversa rispetto a quella che comprate in negozio che è questa valore nutritivo uguale invece e ovviamente dovete aver raggiunto la friendship di 50 con la mamma che vi porta il cestello della frigitrice che ad inizio gioco manca come fate a farla salire 50 come vi ho già detto credo di averlo già detto almeno chiamate il 555 2109 ogni giorno fino all'aggiungimento del massimo livello con la madre a quel punto ve lo ritroverete la mattina successiva nella frigitrice il telefono vi dirà ho trovato questo ok ok abbiamo un altro sciroppo da mettere io adesso non inizio niente non inizio a scaldare nulla perché non non ha senso sono un bambo perché non ho avviato il l'estrattore il generatore che poi alimenta l'estrattore non ha senso avviare a questo punto il riscaldatore perché perché non c'è liquido fuori quindi lui alle 9 adesso noi andiamo consegnare un fare quest'ultima consegna di quattro barili quindi arriveremo un totale di 16 barili consegnati stasettimana e lui poi inizierà ad accumularne nuovo e la domenica inizieremo nuovamente il lavoro io ho più di mi pare 12 o 13 barili adesso io vado a consegnare questi quattro che poi riprenderò ovviamente lunedì che il giorno lavorativo utile successivo ma ritirerò quelli che ho consegnato i due giorni fa e perché ve li consegnano sempre il giorno lavorativo successivo dopodiché vabbè lui intanto adesso passiamo di là mi fermo prendo la tannica da riempire così riempio la tannica anche quella la tannica sarà un discorso che non vedremo praticamente più se non per riempire il serbatorio di questo taglia tronchi e basta e la magari bag il quad e poco altro perché non non ha più se non avrà più senso qua è piena andiamo a riempirla in pratica adesso vi faccio vedere dovrei avere no non credo cavolo ero convinto di sì vabbè ero convinto di avere del formaggio comunque vi spiego anche un'altra cosa adesso perché ve lo do giusto come indicazione perché poi ovviamente farvi vedere tutto vi leverebbe il gusto del del gioco io calcolate che ci ho macinato tutto il mio giorno libero che avevo ieri da lavoro su questo gioco ma tutto il giorno è poi è vero che sembra quasi un lavoro però meglio che così piaccia non c'è poco da fare allora io mi fermo qui metto il freno a mano allora prendo la tannica che andiamo a riempire guardo se ho il famigerato formaggio ma non mi pare di averlo visto no infatti va bene basta credo che non si volevo farvi vedere una cosa e adesso ho smontato completamente il motore il motore lo comprerò nuovo in discarica quindi dove vedete a well donk jack quindi diventando amici al 25 con jack vi dare accesso alla alla discarica e alla discarica trovate o nelle macchine che si rigenerano queste radio e autoradio che vendete la sera un tizio con una macchina nera ma questo tizio compare molto sporadicamente quindi le vendete lui le vendete a 110 dollari l'una quindi potete andare in discarica ogni tanto ma soprattutto in discarica trovate cerchi nuovi gomme usate probabilmente e soprattutto il cambio il cambio manuale quindi cambiamo vedete che qua dentro non c'è più il cambio automatico che c'era ma monteremo quello manuale ma per farlo aspetto di comprarmi il motore nuovo di fronte alla discarica troverate un container dove potete vendere la roba ve la pagano due dollari al chilo in questo caso 220 quindi 440 solo vendere il motore vecchio dovrò cambiare il collettore di scarico gli iniettori dovrò comprare tutto nuovo e rimonterò tutto nuovo cambiando anche quelle bruttissime parti sotto arrugginite e l'auto e quindi il racing me lo sto lasciando per la parte finale del gioco cioè se poi ho lasciato la rete inserita magari sarete d'accordo con me ma sto cercando appunto come vi ho detto di allacciarmi alla rete elettrica di prendere il riscaldatore elettrico quindi non più alimentato a legna quindi addio taglio della legna addio rifornimento del generatore una volta che potrò produrre lasciandolo lì e andando solo ogni tanto a distillare cioè a riempire i barili potrò dedicarmi al racing cioè alla messa nuovo di quella macchina della conig e quindi dell'affrontare il le corse notturne guadagnare dei soldi magari arrivare a 70 mila dollari e aiutare il tizio in città a costruirsi lo speedway quindi il circuito non so se è sterrato o meno poi ovviamente cosa ci sarà da fare dopo niente ma calcoliamo che il gioco è alla versione 2.0 0.291 quindi a un terzo del suo sviluppo totale quindi io mi aspetto delle delle nuove meccaniche tra l'altro ecco qua prendiamo il formaggio perché mi interessa comprare il formaggio perché dobbiamo fare il nostro cibo preferito sciroppo d'acero me ne porto sempre dietro perché ho sete di solito lo bevo mentre lo distillo ma con la tazza ma in questo caso io sono in giro quindi le patate non le compro più perché ormai mi escono dalle orecchie butta dentro lì formaggio local e andiamo uso sempre questa visuale anche se non mi piace ma perché almeno capisco cosa succede lì vende un sacco di roba ma non posso toccarla per l'auto una volta che avrò finalmente una fonte di soldi stabile e che non mi farà dannare l'anima che poi mi dà soddisfazione comunque fare i soldi impegnandomi così do fortunatamente il cartello mi frena potrei passare anche da questi a fargli salire un po di reputazione ma va bene ragazzi adesso io vi faccio vedere la vendita il ritiro delle delle tanniche e poi ce ne andiamo direttamente a casa dove vi faccio vedere come ultima cosa la creazione del nostro pasto adesso intanto bisogna sempre fare attenzione nelle curve perché vola tutto in giro o le auto radio in macchina da due settimane e non so cosa fare bene comunque vediamo se possiamo venderli ok vedete qui ogni giorno ne possiamo vendere fino a 12 certo che vendendo ne 12 ieri ne ho consegnati 4 il giorno prima ne avevo consegnati 7 si abbiamo sforato i 12 questa settimana ma in realtà possiamo consegnare 12 al giorno anche se è un grande lavoro grande lavoro in realtà alla fine io credo che mi metterò a modificare l'auto e ogni tanto andrò a verificare quanto sciroppo ha prodotto ok portiamo i vuoti che provvederemo a riempire durante il weekend sabato e domenica lunedì poi tornerò in città per prendermi la lettera per il collegamento e niente adesso ho comprato il formaggio mi manca solo di fare il pieno alla tannica poi magari mi aspetto sarebbe bella una un'aggiunta del tipo magari qualcosa a livello di da allora che si danneggi l'auto si danneggia solo quella da gara la conig ce n'è una seconda che si surriscaldano la potete usare per le auto però può essere divertente da guidare perché un'auto sembra quasi da nascar con tutte le reti sui finestrini e poi sarebbe bello il danno magari qui l'aggiunta della polizia i posti di blocco tutte cose che ho amato anche se incutivano un po' di paura su my summer car quindi spero spero aggiungano qualcosa magari mette a mano anche questo mezzo che comunque è indistruttibile come potete vedere ho provveduto a colorare e togliere la ruggine anche se la ruggine è un po' una menata perché 50 dollari costa un kit di ruggine ne vendono solo due al giorno no ne vendono solo due al giorno ma vi toglie allora se lo fate sull'auto su quest'auto qui ve lo toglie su tutta una fiancata però il paraurti il paraurti davanti è un tentativo anche le bande laterali i cerchioni i cerchioni ne ho fatto uno solo vedete perché gli altri devo comprarmi il kit però non conviene è solo una un kit monouso invece vedete l'ho pitturato tutto con la bomboletta gialla la portiera a destra l'ho messa metallizzata con una bomboletta apposita che vende solo il tizio il venerdì mentre invece il finestrino di sinistra quello del guidatore gli ho messo la la pellicola nera non scura totalmente ma schiarita del 5% ovviamente ho già messo tutte le pellicole nere invece all'auto da gara che userò poi un domani tra qualche ora tra un bel po' perché devo comprarmi il motore devo rifarmi tutte le componenti poi io non credo che le componenti sull'auto abbiano usura quindi va beh c'è tempo per portarlo avanti vedremo quanto lo porterà avanti lo sviluppatore per quanto vi posso dire ora perché ormai so che questo gioco è di nicchia i tutorial saranno sicuramente di nicchia però per quanto sia la versione 0.291 il gioco ha già tantissimi contenuti probabilmente più di quanti ne aveva mai summer car all'inizio allora intanto questo va di là che lo usiamo stasera mentre intanto magari spegniamo il motore il formaggio vi faccio vedere io il formaggio ne ho già messo uno ne dovete mettere un paio vedete 110 kurz cheese ognuno ne sale di 50 dovete avere almeno 100 io metto dentro due che magari ci serve perché tanto quello in eccesso viene usato dopo dopodiché premete questo no electricity perché sono un bambo perché non ho avviato manco il generatore quindi sono un pirla perché non ha prodotto una mazza stamattina va bene va bene ma poco male c'è tutto il weekend premiamo questo vedete inizia a producere vapore e poi inizia la produzione adesso arriva è buono lo stesso basta soffiarci sopra ok fatto tutto vedete 110 kurz cheese ha fatto tutto potrei andare avanti e fare altre patate ma in realtà altra cosa vi faccio vedere l'altro tipo di coltivazione vedete che prendendo questo la raccogliete e vi genera i semi i semi due quindi ne prendo uno lo piazzo qui questi li sto li sto portando avanti ok vedete ok riempiamo ancora spero uno spero uno vedete 47 raccolgo anche questo uno e mannaggia il secondo non mi sa che mi tocca mi tocca mi tocca tocca far così perché non ho più spazio abbiamo ancora da raccogliere questo ok siamo messi bene questo è un seme quindi lo metto qui questa è una produzione più più lenta comunque due semi uno e due e poi l'ultima pianta che mi dà due semi quindi uno lì e uno qui quest'ultima sta faticando a crescere probabilmente perché non è non è bagnata quindi riempiamo e bagniamo bagniamo tutto che è meno ok una volta che avete fatto questo stessa cosa della frigitrice appoggiate qui vi sedete e iniziate a creare vedete che inizia a creare quando arrivate a 10 un 10% ogni utilizzo quando ne avete 10 premete su questo e vi fa il pack il pacco da 10 basta questo è in sintesi quello che che si può fare a livello di di coltivazioni e e quello che è diciamo il mio piano futuro per il la produzione di sciroppo fatemi sapere che cosa ne pensate se volete nuovi tutorial so che di nicchia non lo vedranno in tanti però gli appassionati italiani di giochi di questo tipo la My Summer Car saranno sicuramente interessati a saperne di più e quindi insomma ben venga perché a me fa piacere il gioco a me sta piacendo tanto e quindi sono ben contento di avervi fatto un secondo tutorial alla fine non credo neanche avete visto tagli perché alla fine ho parlato tutto il tempo ora per completezza me ne torno qui qua ho finito la legna ma nel wick taglierò qualche altro albero ormai sono sono gli ultimi credo che taglierò qui ho iniziato già la produzione sta producendo running poi controllo anche la crescita delle nuove piante se c'è qualcosa da collegare di nuovo ma in realtà no 30% crescono molto lentamente gli aceri le altre piante un po' meno queste le ho piantate ieri due giorni fa 30% appena crescono le ributto giù e ne faccio legna bene dai intanto qua dobbiamo scaricare i barili io li scarico li metto qui vedete che adesso ne ho ne avevo già 4 pronti più altri 4 ne ho 8 più i 4 che ho consegnato vedete sono 12 e gli altri 4 rimanenti li posso consegnare li posso ritirare i vuoti li ritiro lunedì e poi mi metterò a produrre ma sicuramente per lunedì avrò già prodotto altro magari riesco anche a farli tutti nel weekend e li consegno il lunedì ragazzi fatemi sapere cosa ne pensate questo era Mombas il tutorial in italiano alla prossima ragazzi e ciao ciao